Un saluto a tutti, oggi parliamo di catene e i suoi profili, le più comuni, perché esiste anche un profilo rotondo, ma diciamo che lì pochissime persone lo usano, anche se taglia bene, ma diciamo che le più comuni sono la scalpello, che è questa, e la semi, che è questa, la semi. Cosa si differenzia? Si differenzia, si vede bene, dal fatto che qui è un pochino più rotondo, mentre qua abbiamo l'angolo pari qua, che finisce ad angolo proprio netto, pari, e poi va in là, mentre qui abbiamo un pochino di pari, ma leggermente, e poi l'angolo diventa stondeggiante, non è netto come qua a 90 gradi. Ecco la semi e ecco la chisel. Ora, andiamo a toccare anche un altro argomento. Abbiamo questi due tipi di catene, che sì, il profilo è diverso, ma non è solo lì la differenza. Se guardate questa, questa ha un solo delimitatore di profondità, va bene? Mentre l'altra, questo modello qua, è doppio il delimitatore di profondità. Questo che cosa fa alla catena? Uno dice, perché lo fa doppio questa catena? Perché è doppio quando entra nel legno, soprattutto nel legno duri, anche se è leggermente più basso, perché l'abbiamo abbassato troppo, chiaramente l'esagerazione non va mai bene neanche qua, ti permette lo stesso di avere un taglio abbastanza soft. Anche se si va oltre gli 0,65, si banda anche a 0,70, su legni morbidi anche a 0,80, 0,90. Le digerisce, questa catena qui, le digerisce questi legni qui. E' chiaro che se si va in una quercia secca, con un 0,90, anche su questa catena qui, il taglio diventerà saltellante. Però diciamo che tra questa catena qua, che è una doppio delimitatore, contro questa catena qua, che come vedete è singolo delimitatore, la differenza è notevole, perché qui non dobbiamo assolutamente superare i 0,65, 0,70, perché su legni duri vi garantisco che è saltella, ma ve lo posso garantire. Addirittura non si fa neanche la tacca. Ecco la differenza fra le due. Questa è più veloce come catena, perché questa catena qui a profilo ripassato con questo qui risulta una catena più leggera, di conseguenza più veloce, ma poi entra proprio meglio nel legno questo tipo qui, perché è più leggera, abbiamo detto sicuramente, e poi anche i denti, se andiamo a vedere, è un profilo più basso, proprio ribassato rispetto all'altra, che risulta essere anche più grande il dente. Allora, questa è la differenza che abbiamo fra le due catene. Il profilo e delimitatori. Poi esiste anche con doppio delimitatore, ma sempre a profilo semi-giesel, perché ci sono come uno la vuole. Ci sono semi-giesel, singolo delimitatore o doppio delimitatore. Esistono anche questi qui a scalpello, con singolo delimitatore. Quella è la scelta che uno può fare. È individuale, lì la cosa è individuale. Non cambia niente. Cioè, cambia che uno, a secondo quello che devi tagliare, è come vuoi che ti taglia la motosega. Io in genere le uso un po' tutte. Non è che sto tanto a guardare. Chiaramente, quando uso questa qui, posso permettermi di andare anche a 0,80, che non mi saltella, perché, come abbiamo detto, il doppio delimitatore entra meno nel legno questa parte qua, perché trova subito questa e ti permette di non saltellare, perché questo qui doppio non entra. Mentre quello singolo, questo qua singolo, perché saltella di più? Perché questo qui un pochino entra. Essendo proprio singolo, quando il taglio è fatto, che entra dentro al legno, questo qui fa un pochino da taglio anche questo. Entra dentro. E di conseguenza entra in profondità e fa sì che il dente prende troppo legno. Ecco perché questa qui bisogna, come ho detto prima, fare attenzione e non superare i 0,65. Mentre questa anche 0,80 non li fa niente. Le digerisce benissimo. L'affilatura. L'affilatura di queste catene qua è la regola un po' per tutte. Io uso il 5,2 mm e quando affiliamo quando affiliamo questo tipo di catena qui ora questa è affilata, non la ritocco mettiamolo su questo che si vede meglio l'importante è un pochino inclinato così, leggermente di 10 gradi, in maniera che non ci viene la punta. e poi non forzare, non forzare in basso nelle maglie e non forzare in dentro, qui. perché come vedete qui la catena va bene questa perché qui abbiamo la linea, la punta tira una linea col sotto, anzi il sotto è leggermente più avanti e questo è un bene perché è il famoso taglio largo del rinterzo. la stessa cosa comunque anche quando andiamo a affilare questo a profilo ribassato non è che cambia molto la differenza è che non ci viene la punta non ci viene la punta ma anche qui la tecnica la tecnica da affilamento da affilatura come cavolo la vogliamo chiamare è la solita evitiamo la buga e come vedete bello questo rinterzo davanti qui mi piace molto questo soprattutto nel pioppo nel legno che stringono farà sì che il taglio sarà largo e anche qui come vedete non c'è punta di là c'è un pochino la punta ma è impossibile su uno scalpello non fare la punta perché è vero uno dice uso il tondino grosso sì usalo pure il tondino grosso però non hai l'angolo di penetrazione corretto la punta non la fai ma non fai angolo e la motosega non taglia un cavolo va bene? la tecnica è la solita ragazzi tanto per questa Kiesel che per la semi Kiesel zero buga punta poca ma anche se c'è perché ci viene per forza sulla Kiesel ma che deve tirare la linea col sotto va bene? e mi raccomando telemitatori come ho detto prima tenere presente le varie differenze fra le due catene ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.